Musica News Sport Every day for you on the web Lecco Channel.it The Blue Light Blue Radio Parto con un 3-1 in trasferta alla stagione della Calcio Lecco che a Sondrio è il quindicesimo vede Vono involarsi verso Guadagnino non trovare però una gran conclusione che il portiere Ex Pro Patria blocca al diciassettesimo la reazione Segato lancio lungo per Silvestro che riesce a scappare a Salcone Calcia trova Lassi e il palo e il calcio d'angolo calcio d'angolo da cui poi nasce un'azione manovrata che il Lecco conduce con Capogna che trova poi una deviazione così così proprio di Salcone la rovesciata di Danna tra le braccia di Lassi al ventunesimo Lecco ci riprova dalla bandierina Segato è uno schema palla alta sul secondo palo si stacca Malgrati che poi di testa non trova forza non trova neanche la porta risponde il Sondrio minuto 22 scambio sulla fascia di destra cross al centro per Della Cristina che anticipa Guadagnino non trova la porta per questione di centimetri al minuto 24 segato dalla fascia di destra trova Silvestro che si stacca ancora una volta bene sul secondo palo non ha forza in torsione Luce Leste non trova la porta di Lassi il Lecco continua a spingere prende campo e trova il vantaggio minuto numero 28 Silvestro recupera un'ottima palla segato lancio panoramico Danna al volo trova un assist clamoroso per Capogna che in ottima giocata sul secondo palo riesce a anticipare Mara e a trovare il punto dell'1-0 per la calcio Lecco che si leva così un po' le castagne dal fuoco dopo una mezz'ora non facilissima perché il Sondrio aveva fatto abbastanza per impensierire i Blu Celesti il Sondrio comunque non muore non è Domo continua a spingere poco dopo al minuto numero 28 riesce a pervenire al pareggio lancio lungo per Buono che ancora una volta riesce a scappare a Corna cross al centro il braccio del 2000 Blu Celeste è largo il rigore è abbastanza netto va a dare Spinis Lex Lumezzane trova ancora una volta la porta contro la squadra Blu Celeste Lecco comunque continua a spingere e trova un'altra volta il vantaggio segato Pedrocchi il tira così così c'è però Carbone al centro dell'area che da un metro di Mancino trova il punto del 2-1 Lex Gozzano primo gol in maglia Blu Celeste Lecco ha imparato la lezione continua a spingere ancora una volta Segato al 34esimo riesce a pervenire per due volte alla conclusione la prima ribattuta poi Perez riesce con una giocata panoramica delle sue con il movimento del corpo trova anche la direzione per servire Segato si alza la palla al tiro al volo è però alto di circa un metro al 36esimo poi il Lecco fa 3-1 da azione che era difensiva e qui vediamo l'uscita di Guadagnin su De Respinis colpisce poi la squadra Blu Celeste con tre palle alte che pervengono poi sul petto di Danna l'accelerazione di quelle che non lasciano scampo agli avversari lo sa bene Lassi che sul diagonale del Blu Celeste dell'ala Blu Celeste numero 11 ex team può far atto che distendersi e guardare la palla andare a baciare il palo e poi a insaccarsi alle sue spalle Lecco prosegue prova a trovare anche il punto del 4-1 ancora una volta qua Danna lanciato da Segato che ha sbagliato quasi nulla in fase di impostazione non trova però la porta molle però la squadra di Gabur inizio ripresa vediamo malgrati non riuscire a spazzare la palla giocata di testa da Mara il Sondrio con un'azione un po' confusionaria riesce poi a pervenire al tiro dal centro dell'area con il numero 16 Beltrame la parata di Guadagnini è tutt'altro che complessa minuto numero 9 questa palla verso il centro ancora una volta Guadagnini in uscita non fa una gran figura fortuna per lui che nessuno Sondrio trovi la porta e anche in questo caso sulla punizione dell'ex Blu Celeste Valtulina minuto numero 18 la palla per sua fortuna si spegne oltre la trasversale dove non può far male ancora Valtulina al minuto 27 prova a trovare il gol dell'ex punizione quanto mai velletaria il Sondrio comunque in una buona fase al trentesimo troverebbe anche il punto del 3 a 2 cross al centro di Beltrame per Idrissi la deviazione di Stinco però viene vanificata da un fuorigioco e dal conseguente annullamento operato da Caldera della sezione di Como al trentunesimo ancora una volta segato trova Lella che senza guardare la porta la trova però con il destro al vuolo bravo l'assi attento a non staccarsi troppo sul primo palo come è bravo anche al trentanomesimo Guadagnin sul tiro dalla distanza di Antonucci e poi sul seguente calcio d'angolo si fa trovare pronto anche per dire no al numero 14 del Sondrio ovvero Coppola che dal limite dell'area trova l'angolino basso alla destra del portiere blu celeste ma non la forza necessaria per superarlo questa è un'ottima parata di sicuro il ecco poi a due occasioni nel recupero al minuto 45 ancora una volta sfrutta un'indecisione in uscita del Sondrio segato lancia l'isai che a 15 metri dalla porta di lassi non trova la coordinazione giusta per poi calciare verso la porta l'ultima occasione al minuto 48 quindi un minuto prima della fine della partita al recupero di Meneghetti il conseguente cross verso il centro Draghetti non calcia subito da tempo alassi di saltargli addosso music news sport every day for you on the web leccochannel.it the blue light blue radio